E' da poco passata l'una, ma per un mese non sarà più ora di pranzo per la comunità islamica, anche in Puglia. Nella moschea di Bari, in via Cifarelli, è il momento della preghiera. E' iniziato il Ramadan, caratterizzato dal digiuno, dall'alba al tramonto. Il terzo dei cinque pilastri dell'Islam, spiega l'imam della comunità islamica di Puglia. Il terzo pilastro dell'Islam, significazione sua molto importante, fondamentale per le persone. Quelli che fanno sentire veramente il Ramadan, che significa specialmente insegnare a persone a avere temore di Dio, avere la pazienza, avere sentimenti per le altre persone. Dura un mese, è difficile stabilire il giorno esatto dell'inizio del Ramadan, perché si rispetta il ciclo lunare, sia per l'inizio che per la fine. Gli uomini, secondo il Corano, possono solo matematicamente prevedere una data, ma tutto è affidato ad Allah. Il digiuno si interrompe al calar del sole, cominciando a mangiare un dattero, come solitamente faceva il profeta. Il significato dell'astenersi dal mangiare, bere, fumare e praticare attività sessuale è permettere al fedele di purificarsi. Il digiuno per noi è una cosa veramente, pulisce l'anima, più il corpo, anche perché quando è già l'anima pulita, sarà anche il corpo pulito. Allahu Akbar Ciao 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 Ciao